Musica Buon dia a tutti! 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 sopra la prima maglia alta del ventaglio maglia alta nell'archetto mai alta sopra la successiva maglia alta del ventaglio e continuiamo quindi così per tutto il nostro terzo giro sta quindi terminando il terzo giro vado a fare una maglia bassissima entrando nella seconda catenella e adesso dobbiamo da fare il nostro terzo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta mi raccomando entrate bene sotto la maglia alta sottostante non entrate soltanto dovete le due i due fili ma entrate proprio dentro questo vi permetterà di avere la lavorazione dritta e deve avere che il giro qua si sposti un pochettino quindi quarto e ultimo giro una maglia alta sopra ogni maglia alta vi faccio vedere a fine come terminare e come iniziare con il primo giro però come potete vedere sono quattro giri veramente semplicissimi allora ho ripetuto i miei giri per otto volte e poi sono andata a ripetere soltanto i primi due giri del motivo quindi ripeto ripetuto i motivi per otto volte e poi solamente i primi due giri e adesso possiamo andare a mettere i marcatori per mettere i marcatori io sono andata a contarmi i miei ventagli quindi non le maglie alte mai ventagli e ne ho un totale di 30 quindi ne ho messi 15 dietro e 15 avanti andando a mettere il marcatore dove ho la maglia bassa scusate la maglia alta che mi separa l'ultimo ventagli avanti dal ventaglio dietro stessa cosa da quest'altra parte questo è il mio primo ventaglio qui è la maglia alta e qui c'è il mio secondo ventaglio a questo punto quindi possa andare a lavorare i miei giri non più di tutto tonno ma in giri di andate ritorno i primi giri sono semplicissimi perché dobbiamo fare il terzo il quarto giro quindi dobbiamo andare a fare i nostri le nostre maglie alte in questo caso quindi dove ho fatto la maglia dove ho fatto la maglia bassa vado direttamente dove ho fatto la maglia alta del ventaglio vedete qui la prima maglia alta del ventaglio quindi con una maglia bassissima mi porto indietro e vado a lavorare normalmente quindi 3 catenelle e poi sulla video tirare un po di filo e poi vado a lavorare normalmente i miei giri di maglie alte quindi una maglia alta nell'archetto e una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi il lavoro normalmente questi giri questo giro fino ad arrivare al marcatore vi farò vedere come terminare come iniziare il quarto giro perché vi ricordo che io del motivo in questo momento sto facendo il secondo e il terzo che sono uguali però continuo a lavorare e vi farò vedere poi come andare avanti sto terminando il giro sono arrivata dove ho la maglia alta e realizzo l'ultima maglia alta del ventaglio e realizzo la maglia alta quindi ci giriamo con la lavorazione e adesso andiamo a farlo 3 catenelle e una maglia alta sopra ogni maglia alta vi farò vedere quindi come terminare anche questo giro e come iniziare poi a fare il primo giro ho terminato anche il secondo giro quindi fatto una maglia scusatemi il quarto giro una maglia alta soprano in maglia alta quindi andiamo a fare il nostro primo giro e devo fare 3 catenelle che sono sa prima maglia alta questa volta salto 2 maglie alte entro nella terza in modo tale da stare sempre in perpendicolare con la lavorazione quindi salto 2 maglie e vado a fare il mio ventaglio maglia alta catenella rientro maglia alta poi torno a saltare soltanto una maglia quindi salto una maglia entra una successiva e vado a fare la maglia alta salto la maglia entra successiva e vado a fare maglia alta catenella rientro maglia alta e continuo così come abbiamo continuato normalmente saltando una maglia alte andando a fare la nostra lavorazione continuo così vi farò vedere come terminare come iniziare poi a fare il secondo il secondo giro quindi continuo a lavorare normalmente come ho sempre fatto cambia solo l'inizio e giustamente cambierà anche la fine sto per terminare il mio primo giro e come vi ho detto invece che che una maglia ne saltiamo due andiamo nella terza andiamo a fare nella terza catenella nello fa nostra maglia alta a questo punto ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro e deve realizzare 3 catenelle che sono sa prima maglia alta catenella di separazione rientriamo dentro la maglia alta qui non cambia niente poi andiamo all'interno del ventaglio facciamo la maglia alta andiamo all'interno della maglia alta e andiamo a fare il nostro ventaglio quindi l'unico giro che cambia è il primo il resto è uguale e continuiamo a lavorare così fino ad arrivare alla fine e vi farò vedere naturalmente come andare a terminare il nostro secondo giro sto per terminare anche il secondo giro ho fatto la maglia alta quindi va dove la terza catenella e vado a fare maglia alta catenella rientro maglia alta poi si gira si comincia a fare il terzo giro che avevamo già fatto quindi 3 catenelle una maglia alta nell'archetto di una catenella una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi questi sono i quattro giri che dobbiamo comunque ripetere fino ad arrivare all'altezza degli scatti naturalmente vi dirò quante volte l'ho ripetuto e poi vi dirò quanto sono andata a cucire e andremo a fare le nostre maniche allora io ho ripetuto i quattro giri per tre volte una due e tre e poi sono andata a ripetere di nuovo i primi due giri quindi un totale di quattro di tre volte ripete i quattro giri più di nuovo i primi due giri ho fatto la stessa cosa anche dietro e poi sono andata a cucire per cucire ho cucito di 5 centimetri sia da questa parte da quest'altra parte adesso possiamo andare a fare le nostre maniche per fare nostra manica si ritorna a fare la lavorazione in tondo io vi faccio vedere soltanto come si riparte dal tono agli scatti per farvi vedere come sono andata e naturalmente vi chiuderò al giro come sono andata a fare poi il secondo e iniziamo qui io non ho ancora tolto il marcatore lo vado a togliere ops l'ho perso eccomi allora quindi vado qui dove ho la maglia alta e mi aggancio con il film dovrei iniziare con il ventaglio ma inizio con invece a fare la mia cioè devo iniziare con il ventaglio ma faccio soltanto le 3 catenelle in modo tale poi da chiudere faccio vedere qui faccio rivedere come facevamo per chiudere quindi prendo il filo vado direttamente qui e vado a fare la mia maglia alta prendo il filo vado qui quindi salto una maglia alta e vado a fare una maglia alta ventaglio rientro maglia alta prendo il filo vado nella nella nel foro che mi unisce maglie alte e vado a fare la mia maglia alta vado nel foro e di nuovo da fare maglia alta catenella rientro maglia alta questa volta salto 2 maglie alto orizzontali vado a fare la mia maglia alta vado la maglia alto orizzontale successiva nel fuori vado a fare maglia alta catenella rientro maglia alta quindi gestitevi un po con la lavorazione fate in modo che il primo giro non si vada né allargare né a stringere la vostra al lavoro la vostro il nostro lo scalfo della vostra manica quindi continuiamo a lavorare normalmente in questa maniera io continuo così fino ad arrivare alla fine del giro mi farei vedere come finisce il giro a quindi quindi sto per terminare il giro devo andare a fare la mia il mio ventaglio quindi vado dove avevo iniziato a fare la mia prima maglia alta ne vado a fare un'altra e poi non prendo il filo vado nella terza catenella e vado a fare la mia maglia bassa e poi ricomincio a fare il secondo giro come facciamo prima quindi 3 catenelle che sono la prima maglia alta e poi ventaglio dove ho la maglia alta vi dico che io ho fatto un totale di una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci ventagli questo dire che il mio scalfo ci sono dieci ventagli quindi per una taglia m dovrebbe averne a meno 13 14 una taglia è la meno penso un 16 17 comunque io adesso continuo quindi a lavorare i miei giri naturalmente vi dirò quante volte ripetuto il motivo grazie a tutti